Emanuele Di Chiro, allenatore e giocatore del Baranello, vittoria netta ma soprattutto tanto importante perché conquistata contro una rivale diretta per la salvezza, quindi in modo migliore di chiudere l'andata e l'anno solare non ci poteva essere. Si contavano i punti, credo che la vittoria sia stata ampiamente meritata, era importante chiudere bene, venivamo da qualche partita un po' così così, non è l'annata migliore. Dobbiamo approfittare di questa pausa per ricaricare un po' le batterie, per riorganizzarci, per schiarirci un po' le idee perché i giorni di ritorno sappiamo che sarà un altro campionato molto molto difficile. Forse si è visto il miglior baranello della stagione, squadra che ha girato alla perfezione, gioco, occasioni, concretizza, cattiveria, non è mancato assolutamente nulla. Abbiamo avuto sempre tante assenze importanti durante l'anno e questo per noi, insomma, toglierci due o tre pilastri vuol dire tanto. È chiaro che il gruppo c'è, è importante, però alcune persone devono essere sempre in campo. Pian piano li stiamo recuperando, oggi mancava Polletta, mancava Giovanni Niro, insomma, sempre per infortunio. È un'annata un po' particolare anche da questo punto di vista, speriamo in un po' di fortuna nel giro di ritorno. Mi auguro che sia un po' migliore sotto questo aspetto, così potremmo quantomeno giocarci tutte le partite. Ultima considerazione, il calciomercato è sempre aperto, la società farà qualcosa, c'è bisogno di qualche pedina, anche perché, come hai detto tu stesso, le assenze sono state tante. Ma il calciomercato abbiamo provato, ci stiamo provando, ma non è facile, insomma, dobbiamo fare sempre i conti con il nostro budget, con la volontà dei ragazzi a venire a Baranello. Non è facile neanche la nostra classifica, diciamo, che non aiuta, però, diciamo, se dovessimo, insomma, cogliere l'occasione, ne potremmo approfittare tranquillamente. Voglio approfittare di questa occasione per fare un po' gli auguri a tutti gli sportivi molisani che ci seguono sempre con passione, che l'anno nuovo possa portare un po' di salute e serenità a tutti.